Le perle di saggezza di Gordon Ramsey Detto anche pescatore Peng Allora, vorrei fare un video messaggio Sì? Per la tanda Gli vorrei dire, vedi cara tanda Te non ci siamo Non ci siamo Perché mi vai fuori ritmo Ora è il momento No, non lo schiaccio Ma allora Ma allora Cosa fa? Questi sono gli agli della checca Che sono geneticamente modificati Perché sono un chilo l'uno Un chilo Non ci va il tagliere Non c'è il tagliere Puoi usare questo qui Poi dopo si sciacqua No, c'è una schiena della paola Insomma, sto video messaggio è finito Per la tanda Sì, è finito Perché è finita lei È finita lei Così, pura Che c'è, ma c'hai l'aglio? Un'altra settimana Vi proclami Vieni Siamo qui Noi Ma che staspo Perché sei così serio? Oh, ti ricordo lì Con gli occhi dell'assassino Stacca perché è una cosa E' un'impietta o senza stacca